Buonasera dal blog di Agile, adesso vi raccontiamo come da Cosenza ci si può classificare per un PPT abbiamo con noi Luigi Falcone, 21 anni, di Cosenza, Castrovillari, ma provincia di Cosenza com'è andata? Diciamo che è andata bene, è il primo main event, comunque arrivare già al day 2 a 18 dalla bolla è una cosa buona Ecco perché qui siamo un po' in una specie di muro del pianto stiamo aspettando chi esce, chi esce, viene qua e si confessa, si confida, si sfoga anche un po' comunque il risultato è molto buono ma quello che volevo che tu raccontassi è come sei arrivato a questo PPT Allora io ho fatto un satellite da 100 euro e mi sono, diciamo ho vinto un torneo di 48 persone e mi sono vinto il pacchetto completo per Nova Goriz Ecco, il torneo organizzato dalla tua poker room, da Carfield Bet che da quest'anno, anzi proprio da questa tappa ha inaugurato questa politica tornei dal vivo perché da voi si può, sai che lì c'è un po' una giungla legislativa in certe regioni si gioca, in altre non si gioca, lì si gioca quindi loro si sono inventati questi tornei dal vivo, 100 euro di Bain che poi hanno un certo percorso, il fondo al quale c'è il pacchetto per questa tappa è il primo grande live per cui hai partecipato? Assolutamente sì, il primo di grande importanza Quindi anche se sei uscito, diciamo così, a mani vuote però la soddisfazione c'è sempre Sono felicissimo perché la mia prima esperienza mi sono divertito tantissimo tanti giocatori forti quindi sono davvero soddisfatto di quello che ho fatto In più tu sei l'uomo griffato Carfield io dico griffato perché voi siete sempre elegantissimi per cui sembrate una sfilata di moda ma il tuo amico Piero Carnevale lo sa, lo sa è meglio di me, no? Cioè tra noi questo gioco Sei stato l'ultimo della squadra Carfield a uscire? Eh sì, purtroppo nessuno è arrivato a premi, diciamo in day money andrà meglio a Malta, dai Andrà meglio a Malta sicuramente Ma questa è anche la dimostrazione comunque di quanto questi tornei Carfield che selezionano proprio giocatori dal vivo perché tu non eri poi un nostro utente No, 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 io giocavo live in alcune sale lì a Castrovillari c'era questa opportunità con pochi soldi di partecipare a un grande main event come quello di Nova Gorizia e quindi ho deciso di partecipare un po' di fortuna, un po' di bravura sono qui Quindi vedete come si può oramai arrivare a questo grandissimo People Poker Tour che oramai è stabilmente tra i grandi circuiti europei Falcone, congratulazioni, quindi ci rivediamo a Malta Ciao Arrivederci, grazie a tutti